Tutto il girone d'andata a memoria del campionato? Sarà il fatto a decidere quale campionato andremo a riscoprire. Questa è seriamente la Serie A a memoria dal 1987 al 2018. Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Io vi ricordo che potete venire a trovarmi sul mio canale YouTube, dove troverete tutti i video di Serie A Mente, e anche sui miei profili social Facebook, Instagram e TikTok. Bene, andiamo subito quindi a scoprire quale campionato rivedremo. Però, per rendere chiaramente la questione un po' più veritiera, e fugare quindi assolutamente ogni dubbio, perché vi ricordo che non sto né leggendo, non sto barando, non sarà il primo campionato che starò, ma il terzo, quindi, ad essere, diciamo, ripetuto. Partiamo subito. Ho qui chiaramente la mia urna, e vediamo quindi il terzo campionato che io pescherò. Il primo campionato che io pesco dall'urna è il campionato 2000-2001. Lo scarpiamo. Vediamo quale sarà adesso il secondo campionato che io pescherò dall'urna. Il campionato 2014-2015. Il terzo, quello che pescherò adesso, sarà quello buono. Vediamo subito, amici, quale sarà. Eschiamo il campionato 95-96. Il girone d'andata del 95-96. Partiamo. Mi aiuterò chiaramente con le ditta, in modo da ricordarmi tutti i nuovi risultati di ogni giornata. Partiamo. Prima giornata. Seconda giornata. Andiamo con la terza giornata. La quarta giornata. Il posticipo fu Cagliari-Juventus 0-0. Cremonese-Roma 0-1, con tre espulsioni. Giantebiaggi e Tentoni per la Cremonese, Moriero per la Roma. Lazio. Abbiamo poi Milano-Atalanta 3-0. Napoli-Inter 2-1. Parma-Fiorentina 3-0. Torino-Sandoria 1-1. Vicenza-Padova 2-1. E infine Lazio-Udinese 2-2. Veniamo alla quinta giornata. Atalanta-Piacenza 2-0, con quattro espulsioni. Bari-Milan 1-0. Fiorentina-Cremonese 3-2. Inter-Torino 4-0, con l'espulsione del torinista Rizzitelli. Juventus-Napoli 1-1. Padova-Parma 1-3. Roma-Lazio 0-0. Sandoria-Cagliari 1-2. Udinese-Vicenza 1-1. La sesta giornata. Atalanta-Inter 1-1. Cagliari-Cremonese 1-0. Napoli-Fiorentina 0-2. Piacenza-Sandoria 3-2, con un ricore sbagliato dal Piacentino Corini. Milan-Juventus 2-1. Lazio-Padova 2-0. Torino-Roma 2-2. Parma-Udinese 1-0. Vicenza-Bari 2-0. Veniamo alla settima. Bari-Cagliari 3-0. Cremonese-Atalanta 1-1. Sandoria-Fiorentina 2-1. Roma-Parma 1-1. Vicenza-Milan 1-1. Inter-Lazio 0-0. Juventus-Padova 3-1. Udinese-Torino 1-0. E Piacenza-Napoli 0-1, con l'espulsione del Piacentino Mirko Conte. Ottava giornata. Atalanta-Udinese 0-0. Cagliari-Roma 0-2. Fiorentina-Bari 3-2. Inter-Milan 1-1. Lazio-Juventus 4-0. Parma-Piacenza 3-2. L'espulsione del Piacentino Rossini. Abbiamo Napoli-Cremonese 0-0. Padova-Sampdoria 1-1. Torino-Vicenza 1-0. Nona giornata. Bari-Atalanta 1-3. Cremonese-Parma 0-2. Fiorentina-Lazio 2-0. Milan-Cagliari 3-2. Roma-Padova 2-0, con l'espulsione del Romanista Statuto. Sampdoria-Inter 0-0, con l'espulsione del Sampdoria-Nomancini. Torino-Napoli 0-0. Udinese-Juventus 1-0. Vicenza-Piacenza 1-1. Decimo turno. Cagliari-Torino 1-0. Juventus-Fiorentina 1-0. Inter-Udinese 2-1. Lazio-Cremonese 2-1. Napoli-Vicenza 1-1, con un rigore sbagliato dal Vicenza. Padova-Bari 3-0, con l'espulsione del Barese-Protti. Parma-Milan 0-0. Piacenza-Roma 1-0, con l'espulsione del Piacentino-Corino. E veniamo all'undicesima giornata. Cagliari-Napoli 2-0. Cremonese-Padova 2-1. Fiorentina-Inter 1-1. Milan-Piacenza 3-0. Roma-Bari 2-1. Sampdoria-Udinese 1-0. Torino-Atalanta 0-1, con l'espulsione di Angloma e Bonaccina. Vicenza-Lazio 1-0. E infine Parma-Juventus 1-1. Dodicesimo turno. Atalanta-Vicenza 3-1. Abbiamo poi Bari-Sampdoria 1-3. Piacenza-Cagliari 1-1. Inter-Cremonese 2-0, con l'espulsione di Festa e di Agostini. Napoli-Parma 1-1. Juventus-Torino 5-0. Lazio-Milan 0-1. Abbiamo poi, abbiamo detto appunto, Roma-Bari 2-1. E le abbiamo praticamente dette tutte. E veniamo alla giornata numero 13. Un altro numero 13 che si apre con Cagliari-Atalanta 2-0. Cremonese-Bari 7-1. Fiorentina-Udinese 3-0. Milan-Napoli 0-0. Padova-Inter 2-1. Ho dimenticato, cari amici e cari amici, nella dodicesima giornata, Padova-Fiorentina 0-1. Tornando alla tredicesima giornata, abbiamo Milan-Napoli 0-0. Padova-Inter 2-1. Parma-Lazio 2-1. Roma-Vicenza 1-1, con l'espulsione del Vicentino di Carlo. Torino-Piacenza 4-2. Sampdoria-Juventus 2-0. Quattordicesimo turno. Atalanta-Fiorentina 1-3. Bari-Parma 1-1, con l'espulsione del Parmense a Spriglia. Juventus-Inter 1-0. Napoli-Roma 0-2, con l'espulsione del Romanista del Vecchio. Lazio-Sampdoria 6-3. Piacenza-Cremonese 2-1. Udinese-Padova 3-1. Vicenza-Cagliari 0-1. E infine, scusate, Milan-Torino 1-1. Quindicesimo turno. Cremonese-Torino 1-1. Fiorentina-Milan 2-2. Inter-Cagliari 4-0, con l'espulsione di Ins e Sanna. Juventus-Roma 0-2. Lazio-Atalanta 5-1. Padova-Piacenza 1-1. Parma-Vicenza 0-1. Sampdoria-Nappoli 2-2. Udinese-Bari 1-2. Penultima giornata. Taranta-Juventus 0-1, con l'espulsione di Tovalieri. Bari-Inter 4-1, con l'espulsione dell'interista Bergomi. Cagliari-Padova 0-1. Roma-Fiorentina 2-2. Piacenza-Udinese 0-2. Torino-Parma 2-2. Vicenza-Cremonese 1-0. Milan-Sandoria 3-0. E infine, Napoli-Lazio 1-0. E veniamo all'ultima giornata di andata. Con Padova-Atalanta 3-2. Cremonese-Milan 0-0. Fiorentina-Piacenza 2-1. Inter-Roma 2-0. Juventus-Bari 1-1, con l'espulsione dello Juventino di Ercuvud. Lazio-Torino 1-1. Parma-Cagliari 4-0, con il Parma in 10, per l'espulsione di Apolloni. Sampdoria-Vicenza 2-2. Infine, Udinese-Napoli 3-2, con un rigore sbagliato dal Napoli con Agostini. Questo era il girone d'andata del campionato 95-96. Io vi ringrazio, amici e amici, per avermi seguito. E vi do appuntamento a un prossimo video con Seriamente, la Serie A a memoria. Ciao! Ciao!